Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione veramente molto importante che riguarda il mercato. Allora, che è successo? È successo che a gennaio la Juve dovrà intervenire sul mercato. Ma è successo anche che all'interno della rosa della Juve c'è una piccola rottura fra un giocatore della nostra squadra e l'ambiente in generale. Ora, quando io ho sentito per la prima volta le notizie su questa rottura, io sono stato un po' scettico, no? Quindi ho fatto le mie verifiche, ho chiamato le persone che dovevo chiamare, ho indagato come dovevo indagare e ho scoperto che in realtà questa era una notizia più che affidabile. Io non sono d'accordo con quello che sta succedendo alla Juventus adesso. Vi spiego il perché fra pochi secondi, in modo tale che ne parliamo un pochino insieme, anche perché a me non piace dire le cose per compiacere, ma devo dire le cose che penso perché sono serio nei vostri confronti. Prima di iniziare, tre cose molto semplici, l'iscrizione, il solito like, la solita campanellina, ovviamente sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Io vi ricordo che se voi però non attivate la solita campanellina, delle notifiche, non vi arrivano praticamente mai video. e se vi va potete... Ah, tra l'altro escono contenuti nuovi tutti i giorni, quindi se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei social. Allora, Fagioli, Juve, sta proprio lì per crollare tutto. Ok, io credevo, credevo che Fagioli potesse rimanere qui ancora per qualche anno. Credevo che la Juventus credesse in Fagioli e che i tifosi della Juventus credessero in Fagioli. Io non devo, ripeto, dire cose false semplicemente perché voglio recitare una parte. Io devo dire le cose vere perché altrimenti, ragazzi, vorrebbe dire prendervi in giro e io non voglio assolutamente prendervi in giro. C'è questa idea di mandare via Fagioli a gennaio. C'è il Napoli su Fagioli, ci sono anche squadre estere, tra cui c'è, voglio dire, ci sono squadre appartenenti a vari campionati che lo vorrebbero a gennaio. La Juve vorrebbe cederlo per fare cassa e cercare di prendere un paio di ragazzi a gennaio, un difensore centrale e eventualmente una punta centrale di riserva, qualora Milik non fosse ancora affidabile. E quindi si pensa a cedere Fagioli. Ma perché si cede Fagioli? Innanzitutto perché non piace molto a Tiago Motta. Seconda cosa perché Giunto li stesso non è un grande fan del ragazzo. Quindi siamo di fronte ad una rottura con l'ambiente. Perché mi dà fastidio tutto questo? Innanzitutto perché bisognerebbe essere ciechi per non vedere che Fagioli ha delle qualità. Fagioli ha delle qualità clamorose. È un giocatore di 23 anni, giovanissimo, che può ancora migliorare, che può ancora dire la propria. È un giocatore intelligente, che ha sicuramente i suoi difetti, li abbiamo visti tutti quali sono, ma prendere un giocatore e giudicarlo per un difetto che ha, perché questo si sta facendo nella tifoseria, dove si dice, se la Juve lo sta cedendo è perché Fagioli probabilmente ha ricominciato a fare quello che faceva prima. Non lo possiamo sapere e dirlo è di cattivo gusto. In secondo luogo, mi spiegate la gente che critica Fagioli quest'anno che problemi ha? Ho sentito gente che dice, eh ma Fagioli quando entra in campo non incide mai, non gioca mai bene, non sta mai bene in campo, è normale che lo vogliano cedere. No, non è normale, perché anzitutto gioca pochissimi minuti a partita. Cioè, quest'anno Fagioli è partito a titolare un paio di volte, ha sempre fatto bene. Quando è entrato, è entrato quattro minuti a partita e ha giocato fuori ruolo, perché lo fa giocare a trequartista, non è mai stato questo. Lo faceva quando c'era a dodici anni il giocatore dietro le punte Fagioli. Fagioli è una mezzata, un centrocampo a tre, può essere schierato come mediano davanti a un centrocampo a due di impostazione, ma non è mai un giocatore che metti dietro le punte, quindi non ti devi lamentare un po' che il giocatore entra quattro minuti a partita e gioca male, perché lo fa giocare col contagocce e gioca in un ruolo che non è suo. Quindi partiamo da questo presupposto. Ma poi volevo farvi una domanda. In tutto questo, visto che YouTube è pieno di leccaculo, perché si è capito che il 90% delle persone che vedo io sono leccaculo, il 90% delle persone che io vedo che fanno i video su questa piattaforma sono dei leccaculo impressionanti. Cioè, persone creator che fanno i video sono dei leccaculo clamorosi. Cioè, un giorno pensano una cosa e il giorno dopo, per andare a favore di popolo, pensano un'altra. Allora, le palle sta gente le ha lasciate sotto casa. Quindi capisco perfettamente. Fortunatamente non è questo il mio caso. Quindi vi faccio una domanda. Sto famoso progetto giovani che negli anni scorsi ci siamo fatti attaccare tutti per i giovani, che fine ha fatto? Perché io vedo che Fagioli c'ha 23 anni e l'ho stato a Cene. Che su Leccia aveva 21 anni e l'avete ceduto. Che i giocatori giovani quest'anno tutti li abbiamo ceduti. Tutti. Bangulan è un altro che ci saluta, perché Bangulan gioca mai. Allora, come? Negli anni scorsi si faceva un casino impressionante per far giocare a Fagioli, per far giocare a Solece, se lamentava se non giocava a quello, se non giocava a quell'altro, perché erano giovani. E la Juve rovinava i giovani. E noi eravamo cattivi perché non puntavamo sui giovani. Adesso i giovani vengono usati per monetizzare. Mi serve veramente cedere un giocatore come Fagioli a gennaio per andarmi a prendere l'ennesimo difensore centrale in prestito in un attaccante di riserva che probabilmente non serve a niente, perché probabilmente non è nemmeno quello che piace davvero, perché tu vorresti prendere un giocatore, ma i soldi sono pochi. Allora, il discorso è molto semplice. Cosa pensavate quando avete costruito la squadra? Giugno? A spendere 40 milioni per Nico Gonzalez, che non è servito a niente? a spendere tutti questi soldi. Abbiamo spesi soldi per Douglas Lewis, è servito a qualche cosa. Perché deve pagare Fagioli, che è giovane, di talento, di grande qualità, e comunque abbiamo visto che ha delle importanti doti. Quindi è comunque talento, no? Perché deve pagare lui per quello che si sta vedendo in mezzo al campo? Ok? E poi, te lo torno a ripete un'altra volta, la gente fa paragoni con Locatelli e dice Eh, ma Fagioli se fosse stato bravo sarebbe cresciuto come Locatelli. A parte che Locatelli è titolare, quindi Locatelli gioca nel suo ruolo, visto che smontiamo pure un'altra cazzata degli anni scorsi. Locatelli gioca fuori ruolo, no? Locatelli è un mediano, Locatelli gioca esattamente dove dovrebbe giocare, in un centrocampo a due. Quindi ha sempre giocato a due pure con De Zerbi, con Allegri giocava a tre perché non c'è stavano i mediani, quindi di conseguenza gioca a due e gioca nel suo ruolo. Ma Locatelli è un titolare della Juventus che ci ha avuto tutto il tempo del mondo. E poi, scusatemi, perché voglio fare proprio il discorso generale, ma voi, sta stagione clamorosa a Locatelli, straordinaria, che io sento, ma dove la vedete? Quando fai una critica a Locatelli quest'anno, sembra che tu stia criticando Gerrard. L'altro giorno stavamo parlato, uno ha detto No, ma tu però le partite non le guardi con attenzione. Cavolo, è il mio lavoro, le devo guardare con attenzione. Io non stacco gli occhi un secondo dalla partita. E vedo che Locatelli, tutta sta grandissima crescita meravigliosa, gioca bene, perché gioca bene, gioca ordinato, gioca pulito, è uno dei migliori da inizio stagione. Ma non comportiamoci come se Locatelli fosse un fenomeno e Fagioli fosse una pippa, perché non è così. Perché uno ha continuità e gioca, l'altro non gioca mai. E vedere un giocatore come Fagioli essere ceduto a gennaio dopo che io so lavorato e dopo che ci abbiamo lavorato per tre stagioni sopra tra Next Gen, il prestito, l'esordio in prima squadra, l'affermazione, poi c'è stato il problema che ha avuto, mi rode. Cioè, mi rode vedere un talento costruito qui, cresciuto nella Juve, andare via in un'altra squadra perché comunque trova un contesto in cui non si può esprimere. Perché è possibile che Locatelli è andato bene in nazionale, è andato bene nelle giovanili, è andato bene nel prestito, è andato bene nelle prime stagioni alla Juve, adesso non va bene più. Come può essere che non va bene più? E i tifosi stessi, che fino all'anno scorso sbattevano i piedi chiedendo il gioco di Fagioli, dicendo che Fagioli era ruvidato, dicendo che Fagioli potrebbe dare di più, potrebbe aver dato di più, potrebbe rappresentare in futuro il nostro talento a centrocampo. Sta gente adesso è la prima gente che critica Fagioli e che dice che Fagioli non vale niente. Ma come non vale niente? Erano gli stessi che due o tre mesi fa volevano Fagioli titolare in mezzo al campo. Ora io non pretendo che debba fare il titolare, perché io sono il primo che ti dico che non è titolare, ma non si può giudicare Fagioli perché entra in campo tre minuti e gioca fuori ruolo e quindi no, Fagioli ne è da Juve, ha ceduto. Parca miseria! Oh, abbiamo rivoluzionato una squadra e alla fine del discorso tutto sto granché io non lo vedo. Quindi stiamo attenti a c'è dei giocatori così a random perché ci stanno antipatici o perché comunque non li sappiamo usare o perché non li comprendiamo perché c'è avuto questo problema su delle scommesse e tutto sto casino che ha avuto. Perché Fagioli è uno dei talenti italiani migliori attualmente ed è giovane. Cioè tu fra tre anni potrebbe essere che ancora questo qui sta ancora crescendo. è un centrocampista è un centrocampista può crescere ancora tantissimo. Sei sicuro di voler cedere Fagioli a gennaio? Sei sicuro che Fagioli sia da cedere a gennaio? Veramente i tifosi della Juve dicono basta Fagioli perché gioca quattro minuti fuori ruolo? Porca miseria! Cioè io non lo vedo un giocatore così orribile in campo non lo vedo così impreparato in campo. Poi deve essere compito anche nostro di valorizzarlo a dovere all'interno del contesto tattico. Se lo schieriamo fuori ruolo ogni cinque minuti sarebbe opportuno cambiare modalità. Ecco tutto qua. Questo ve lo dico perché purtroppo vedo che la gente ripeto lecca a destra e a sinistra invece bisogna parlare chiaro. Come? Fino all'anno scorso abbiamo parlato chiaro abbiamo criticato tutto quest'anno qualsiasi cosa succede va tutto bene può dire essere caculo da questo punto di vista. Io le caculo non ce sono mai stato quindi ti dico le cose positive e ti dico le cose negative. Voglio sapere un pochino nei commenti qual è il vostro modo di vedere le cose perché sto veramente perdendo la pazienza veramente ragazzi fatemi sapere nei commenti.